Si scaldano i motori congressuali in vista dell'elezione del nuovo segretario del Partito Democratico. Quattro le candidature in campo. Oggi a Belluno è stato presentato il comitato che in provincia sosterrà Stefano Bonaccini. A capitanarlo Roger De Menech, già segretario regionale del partito e poi coordinatore dei parlamentari Veneto del PD. Il centrosinistra e il Partito Democratico ha queste due solidità e ha la capacità di trasformare in buon governo le cose che dice. Ecco, questa è una delle caratteristiche della candidatura di Bonaccini. Poi è una candidatura che per noi sarà fondamentale perché al centro di questa candidatura ci saranno anche e soprattutto, cosa che lui fa praticamente in Emilia Romande, le grandi tematiche delle aree interne, delle zone di montagna, dello sviluppo complessivo della nostra regione, anche dentro i grandi temi delle riforme di oggi. Dalle riforme sull'autonomia alla capacità di riorganizzare il servizio pubblico anche nelle zone più interne del paese. Una squadra che si vuole ampia, autorevole e rispettosa dei valori storici della sinistra progressista e in cui le donne dovranno avere ruoli e responsabilità. Sono convinta che la questione femminista non si risolva mettendo una donna alla guida del Partito Democratico. Non sto mettendo in discussione le competenze e le capacità delle due candidate, Paola De Micheli e Elie Schlein, ma sono convinta che l'unica candidatura che in questo momento riesca a dare inclusività, riformismo e a ricostruire il Partito Democratico sia quella di Stefano Bonazzini.